Allora cari amici benvenuti a questo nuovo video e mentre negli giorni scorsi avevo preparato dei video secondo me gradevoli molto interessanti sulle lenti vintage mi è venuto in mente di fare una piccola introduzione a quel video con questo appunto cioè l'introduzione di non partire dalle lenti ma dalle macchine e soprattutto la domanda principale del video di oggi è da dove parte il vintage cioè qual è l'unità di misura che una cosa è attuale moderna o vintage allora io sono andato nella mia soffitta e dopo tanti anni grazie anche a questo intento e quindi il vostro ascolto ho rispolverato veramente l'ho solo spolverato e giuro delle macchine meravigliose che mi hanno accompagnato negli anni molte le ho vendute quindi non ce l'ho più alcune le ho tirate fuori ne ho altre ma insomma non volevo riempire il tavolo allora una cosa vintage secondo me la mia unità di misura è quando non viene più utilizzata cioè quando non parla più col mondo attuale e quindi in questo caso in questo concetto di video che sto preparando è diciamo la parte dedicata alla pellicola cioè diciamo indicativamente dalle soglie del 2000 all'indietro va bene le ottiche poi vedremo che invece le possiamo inserire nel sistema digitale quindi le ottiche vintage sono comunque più attuali e rientrano nella categoria più moderna rispetto ai corpi poi questi corpi ancora tutti funzionanti hanno un fascino incredibile se voi decidete di comprare una pellicola e andare in giro a fotografare con quella vediamo qualche piccola cosa che forse i più giovani cioè quelli almeno nati solo nel digitale non sanno allora si capisce subito che tipo quanti anni posso avere io allora questa macchina è una Voigtlander C nata costruita diciamo intorno al 1961 la prima uscita allora questa è la macchina che ha fotografato la mia infanzia cioè io del non vorrei dirlo nel 1965 considerate che mio padre penso abbia fatto due rullini in tutta la mia vita io ho circa 20 foto da piccolo mio fratello che è nato dopo ce n'ha neanche 10 non erano nessuno della mia famiglia parenti genitori cugini nessuno appassionato di fotografia forse è da lì che è nato questo grande amore allora questa è una macchina dicevo del 61 costruita mio padre credo io nacqui nel 65 sicuramente l'avrà comprata che ne so nel 64 65 e ha raccontato con il suo mitico Voigtlander 50 mm f2.8 che io tra l'altro riutilizzato per diletto diciamo da giovane da ragazzo questa raccontò proprio la mia infanzia quindi fino alle soglie degli anni 70 una macchina molto divertente ovviamente è un mondo fotografico obsoleto quindi questa rientra nella caratteristica vintage intanto perché l'obiettivo non si leva se voi montate il rullino adesso dentro un rullino 35 mm funziona ok quindi è una cosa straordinaria non so quante macchine digitali possano funzionare da qualche anno allora la mettiamo da parte perché vado più veloce e diciamo che il vero vintage che considerano i ragazzi almeno i miei corsisti ma vedo anche molti youtuber ventenni trentenni eccolo qua dunque queste sono due macchine quasi simili attenzione quasi simili insomma allora questa è una mitica olympus o m1 che monta un 50 zuico fantastico che poi vi riporterò all'interno delle prove tecniche che poi sto preparando con lenti vintage o naturalmente su macchine digitali e con un 50 mm dicevamo un 8 questa è la mia prima nikon prima mia nikon proprio sognata la f e2 l'ottica monta una serie d perché ho questa di 50 mm retro in realtà lei montava gli AI e AIS che avevano una qualità che io devo dire la verità ho molti 50 mm non ho più ritrovato io ho il 51.4 la serie G fantastico meraviglioso ma il 51.8 la serie AIS io non l'ho mai più trovata come qualità visiva allora pensate che la f e2 è stata prodotta dall'83 a 2001 in un mondo come vedete molto diverso da quello che conosciamo adesso che noi compriamo una qualunque marca mirrorless in questo momento e sei mesi dopo già c'è il modello superiore allora qui il valore della fotografia era più lento e più secondo me amato dalle aziende per i propri clienti quindi un foto amatore negli anni 80 all'inizio degli anni 90 comprava una f e2 per immaginate che questa macchina aveva già l'otturatore al titanio a nido d'ape leggerissimo ed in più scattava con il flash a un 250esimo nonché se finiva la pila il tempo di scatto meccanico 250esimo poteva lavorare senza pile senza corrente esposimetro molto preciso è stata una macchina fantastica scattava già a un quattro millesimo di secondo nell'83 ed ha addirittura la A di priorità di diaframmi automatici quindi una macchina meravigliosa tra l'altro vorrei farvi capire quanto è leggera e piccola un 35 mm professionale che è veramente ancora una bellezza uscirci con un rullo dentro e qui ancora siamo nel diciamo nell'idea già più moderna di fotografia ma comunque vintage io poi cambierei un po l'etichetta con modernariato vi spiego perché perché il vintage c'è vero cioè quello veramente ancora post poi io arrivai vi faccio vedere una macchina che con cui ho lavorato ne ho avute tre o quattro una macchina fantastica si chiama f 90 x che era l'evoluzione della f 90 qui parliamo questa evoluzione del 92 che era la leggera riduzione non tropicalizzata dell'ammiraglia f4 che era una macchina ha fatto la storia della fotografia analogica già autofocus ed elettronica montavano quattro pile stilo che duravano ovviamente tipo non lo so io ci facevo tipo quattro matrimoni con un uso continuato ci facevo con quattro stile quattro matrimoni da 500 foto 600 foto la cosa bellissima che ho ritrovato che me l'ho dimenticato personalmente io è la bottoniera dei punti più importanti del della macchina quindi riavvolgimento velocissimo della pellicola il bottone iso il bottone mod cioè quindi manuale program queste a priorità di tempi di fra queste erano macchine indistruttibili o veramente mi sono cadute dalle borse dalla motocicletta io ho sempre lavorato con in moto e qualche volta le borse si sono aperte è successo sempre qualche danno ho fatto per queste erano totalmente indistruttibili una cosa che ricordo fastidiosissima e chiudo è che questa macchina dopo molta usura di lavoro cominciava a la gommatura che c'era dietro si incollava le mani se tuttora la tocco dopo vent'anni trent'anni ancora appiccica era fastidiosissima ma per il resto una macchina fantastica allora anche questa è considerata una macchina vintage funzionante è come tutte però insomma una macchina già più ingombrante le pile l'autofocus rispetto alla f2 se adesso dovessi uscire a farmi un rullo a pellicola sicuramente prenderei la f2 o la olympus o m1 che hanno una leggerezza e una piacevolezza una cosa che ho condiviso e sono completamente d'accordo con chi su youtube non ha proprio vent'anni e sa parlare seriamente di fotografia è non ricordo chi lo ha detto ma è il fascino cioè adesso questo è un periodo che noi andiamo tutti verso la corsa all'ultima tecnologia riconoscimento dell'occhio riconoscimento facciale il video in 8k qui invece si parla di una fotografia ancora legata a un rapporto d'amore io dico un rapporto d'amore nel senso che l'oggetto già in mano a passeggio in campagna tra le colline già aveva un fascino proprio di tatto ok è difficile da spiegare in qualche attimo sul video ma questa è una fotografia più ponderata intanto lo dico ai giovani perché ogni scatto costava quindi tru 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 come si scatta col telefono raffiche di fotogrammi infiniti quindi diaframmi macchina quindi una macchina stava qui perché ricaricava l'otturatore l'altra macchina teneva il peso sotto naturalmente ma un peso ridicolo e lavorava sui diaframmi e la messa a fuoco quindi la stessa mano faceva la messa a fuoco manuale e spostava i diaframmi tutto questo rendeva la fotografia più calma anche per forza e questo ha portato il grande amore di diciamo tutta la mia generazione poi io l'ho scelto di fare di lavoro e ancora non ho capito dopo 30 anni se ho fatto bene o fatto male ma insomma comunque sono uno che quando non lavora esce e scatta ancora con molto piacere allora vintage però può essere rientra nella categoria vintage per esempio può rientrare anche la mia prima reflex digitale fuji finepix s2 guardate la dimensione del monitor è divertentissima adesso in confronto a quello che stiamo vedendo in questo periodo è fantastico dunque questa macchina è una macchina del 2002 quindi per i giovanissimi madonna monte vecchia per me è quasi ha finito di lavorare quasi l'altro ieri era mi sembra 3,2 megapixel interpolata da fuji a 6 mega e devo dire la verità il difetto di queste macchine non era altro che gli alti iso e la velocità dell'autofocus ma se io uscivo con questa macchina e stampavo o che sia chiaro qui c'è roba è come dicono nella mia città l'evoluzione fu anche l'S3 l'S3 fu un grande salto erano 6 megapixel qui parliamo di CCD e vi spiego perché il CMOS nei stessi anni ancora aveva delle grosse problematiche sui bordi del fotogramma insomma ma poi ne parleremo in un'altra situazione l'S3 fu una grande svolta molto più veloce l'autofocus un'impugnatura più ergonomica una cosa molto bella della S3 era che guardate un po' aveva lo scatto anche verticale questo modello aveva solo lo scatto mentre per esempio la mia D3 ha tempi e diaframmi anche da qui quindi però immaginate quanto fu comoda per la prima volta in sala posa poter star così per ore senza tirare su le braccia in maniera drammatica anche qui un monitor ancora piuttosto piccolo però non era quello quando nacque il digitale non era quello l'importante ma era il fatto di scattare e velocemente controllare e il fatto per noi fotografi io ve lo dico perché sono tuttora era il fatto che io scattavo ogni foto a qualunque ISO volessi cioè per me era impensabile dopo 15 anni di fotografia analogica in medio formato in banco ottico 4x5 pollici in 35 mm poter scattare una foto a 100 ISO e quella dopo a 400 era veramente impensabile voi giovane ci siete nati e sono felice ma noi ce la siamo goduta da altri lati allora dicevo e chiudo salutandovi anche questo è vintage in realtà cioè adesso non credo che nessun ragazzo a parte se volesse fare una prova uscirebbe con una macchina del genere tra l'altro non so se vi siete accorti ma io ho detto fuji fine pics e come vedete sono reflex non so se i ragazzi più giovani lo sanno ma questa è una chicca che se volete vi racconto in breve la fuji alla soglia degli anni 2000 disegnava un corpo per se stessa probabilmente erano contratti economici contratti aziendali aveva il diritto di produrre una reflex e disegnava i corpi per nikon quindi c'era un accordo commerciale che poi finito se andiamo all'interno della storia di fuji digitale fuji poi inizia per prima probabilmente a fare le mirrorless perché trova una strada alternativa un amante come me di nikon da sempre perché passò nei primi due anni tre anni del digitale in italia alla fuji perché la fuji aveva una cosa molto particolare uno secondo me era avanti a nikon le prime due nikon di 100 di 200 sì qualcuno diceva bellissime secondo me erano un po' indietro come purtroppo sono state un po' indietro all'inizio le mirrorless nikon ma nikon va lenta ma vedrete che farà delle grandi cose allora io passai per motivi di lavoro io dovevo fare i matrimoni i matrimoni ci vogliono almeno due corpi che rendano a che vadano veramente che reggano la botta no come si dice cioè servivano le macchine serie che funzionassero allora il vantaggio dei nikon è che avevano un brevetto di sensori ccd più inciso del 30% avevano più netidezza del 30% rispetto alla concorrenza e la cosa strana udite udite non mi sbaglio quindi ve lo posso confermare l'attacco è nikon non è fuji queste macchine ibride secondo me non lo so quanto hanno venduto ma ebbero un successo strepitoso perché sono macchine straordinarie erano in quegli anni un pelo avanti quindi adesso sono vintage ma sono sensori e corpi macchina veramente straordinari e i nikonisti come me avendo visto i nuovi corpi digitali nikon un po' indietro comprarono per come vedete due generazioni queste macchine ma utilizzavano le lenti che già avevano nikon ok? non so quanti di voi lo sapevano io lo so bene perché l'ho pagato io e ci ho lavorato allora amici vi ringrazio di tutto il vostro ascolto come abbiamo visto siamo partiti dal mirino gallideiano degli anni 60 con l'evoluzione reflex analogica meravigliosa allora chiudiamo dicendo vogliamo parlare del vero vintage del modernariato poi perché questa fascia dove l'elettronica e dove tuttora se io mettessi 4 pile nell's3 e un'ottica nikon funziona e scatta diciamo almeno fino a 400 iso forse 800 in altissima qualità visiva si può considerare vecchia ma non vintage ok? allora dal 1999 circa all'indietro è vintage oltre il 1989 io la metterei nel modernariato ancora utilizzabile attuale è la terza categoria quella di ora ma anche di tutte le macchine di 8-9 anni fa che ancora parlano con le loro ottiche e i loro flash quindi sono totalmente operative poi possono avere più rumore a più bassi iso possono avere autofocus meno veloci di quelle dell'ultima generazione ma sono macchine attuali ok? va bene come categoria di visione? grazie arrivederci faremo dei video più specifici grazie arrivederci a tutti